Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Teletrading, Stefano Pisano di Trendy, dunque direi oggi di fare un veloce, velocissimo aggiornamento di quella che è la situazione sui mercati finanziari, in particolare mi riferisco al mercato azionario, al mercato Forex e al mercato delle commodities, quindi partiamo velocemente da quello che è la situazione sul mercato azionario di casa nostra, in particolare mi riferisco all'SPMIB, ecco come potete vedere vi ho evidenziato in questo grafico end of day quelle che sono le situazioni tecniche più importanti, quindi le trendline che caratterizzano di più, in maniera più chiara il movimento attuale, il movimento attuale di trend sicuramente ribassista, in questo momento il mercato dopo le forti discese si è stabilizzato tra le 32.500 e i 35.000 circa e attenzione perché appunto siamo nei pressi di una resistenza molto molto importante, l'area 35.000, il primo supporto chiave sono direi 32.500 punti, 33.000 come aree e a mio parere qualora dovesse essere violata l'area 35.000 potremmo assistere a un'accelerazione rialzista direi anche fino all'area 37.000, in questo momento comunque l'area 35.000 sta tenendo molto molto bene come punto di resistenza e appunto qualora venisse violata si potrebbe assistere appunto a un'accelerazione di direi 2.000 punti circa. Per quanto riguarda la situazione sul mercato Forex, in particolare nel nostro euro dollaro, dopo un forte trend rialzista ci siamo stabilizzati tra gli 1.53 e 1.53.6 circa e gli 1.59 con un test della soglia psicologica di area 1.6, quindi in questo momento siamo in una sostanziale situazione di lateralità tra gli 1.53.6 e gli 1.59 circa. Se vogliamo un livello di resistenza più stretto potrebbe essere anche l'area 1.56 appunto prima dell'area 1.59. Situazione direi diversa sul mercato delle commodity, in particolare mi riferisco al CRB che come potete vedere sembrerebbe stia rompendo, anzi ha rotto e vedremo se appunto nelle prossime sedute verrà confermata questa rottura, l'area 4.20, un'area molto importante di resistenza che potrebbe portare nelle prossime sedute qualora confermata un'accelerazione molto forte anche del 10% sul mercato delle commodities, mercato delle commodities che se nell'ultimo anno appunto avete visto sul mercato azionale ci sono stati dei forti ribassi, è un mercato invece che è salito, è salito molto forte nonostante appunto le discese del mercato azionario, quindi è un mercato che ha sicuramente dato molte più soddisfazioni dell'azionario e probabilmente nel breve potrebbe darne ancora di più perché a mio parere qualora appunto questo range tra 80-4.20 venisse appunto confermata questa violazione dell'area 4.20 a mio parere si potrebbe anche andare in area 4.60 di CRB quindi con quasi un 10% di accelerazione, chiaramente per chi decidesse di entrare dopo questi forti rialzi che si sono già verificati chiaramente molta attenzione a porre degli stop, sicuramente direi pochi, pochissimi punti percentuali sotto l'area 4.20 proprio perché appunto il rialzo è già stato forte e per chi volesse appunto tentare operazioni long, diciamo il rialzo è già stato notevole quindi è anche molto notevole il rischio. Ecco direi che per oggi è tutto, continuate a seguirci su Teletrading, per chi fosse insegnato, interessato a segnali operativi e corsi di trading, consultate il nostro sito www.trendy.biz. Grazie e rivederci.